Ciao a tutti ragazzi Ok ho capito come funziona sto gioco Telecamera giù e si vedono tutte le telecamere Belle Beh dai Non si può dire che sia un brutto posto però Boh non so cosa mi potrebbe servire Belle dai sono belle Ok va bene Penso sia un gioco divertente Non lo è più divertente Che cazzo è? Ah è lì ok Non è più lì Ma chiudi subito Bello Bellissimo Due Io non mi fido Aspetta mi barricare tutti e due che non si sa mai Bellissimo Ma 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 tu a mamma Ve ne potete andare Vai via Ragazzi Ora mettiamo le cose in chiaro Te ne vai Merda Devo aspettare prima che mi ammazzi Così posso ricominciare la prima notte Staccati Che cosa cazzo ho appena visto Guardiamo il food kill Io non ho parole Ma come cazzo si fa Va bene Era la prima volta Dai va bene Lievatti dal cazzo Stavolta so come si gioca Non ho capito un cazzo Va bene Non si capisce Va bene Va bene Va bene Va bene Ok la coniglia è qua Questa è qua Ma perché? Porca madosca Non ho capito un cazzo Questa è stata la notte 1 ragazzi Ma come cazzo si fa? Come fai? Scusami Ma perché sei già qua? Sono le due Ti dovresti muovere adesso E baffanculo Ma chiudiamo per sicurezza Tu pavolo senti Basta Se mi uccide basta Mi sono rotto Le coglioni Perché fassi Sospironi giganti? Cazzo non raggiungo neanche le 4 Proprio coglioni Ho raggiunto le 5 Ma intanto sono stato ingroppato Un'altra volta Basta Mi sono rotto i coglioni Basta È stato divertente Forse non credo neanche Ci vediamo al prossimo video Bella Bella